Un'onore per me presiedere questa sessione di studio dedicata a Farinelli nell'occasione della fondazione di un centro studi a lui intitolato. Oggi Bologna, e segnatamente l'Accademia Filarmonica Bolognese, assieme ai benemeriti e alle benemeriti istituzioni che si sono associate in questa iniziativa, paga un debito morale molto importante nei confronti di un suo figlio ad adozione. Farinelli visse la musica come ragione di vita. E' stato tradito atrocemente, non soltanto dalla vanificazione della sua volontà, attraverso la dispersione di quel legato che lui aveva costituito in fondazione. Oggi si parla tanto di fondazione nel bene e nel male, ma tante volte queste fondazioni, questo vale anche per quelle di oggi, sono a fondazione, di qualche cosa di esistente. Nel caso di Farinelli fu a fondazione in quanto l'arrivo delle leggi napoleoniche rese possibile la vendita di un patrimonio che era stato accumulato col desiderio di una testimonianza valevole e perenne di quella che era stata la musica alla corte di Spagna e nella vita di Riccardo Grosco. Tutto questo è stato disperso e fortunatamente da questo immane naufragio si sono salvati almeno due serie di codici importantissimi che sono quelle che hanno trasmesso il corpus delle sonate di Domenico Scarlatti. Ma per il resto, l'inventario, diciamo legale, che non è in appendice al testamento, ma mi chiarisce opportunamente la dottoressa Poris che fu redatto e pubblicato un anno dopo la morte e perciò disgraziatamente sfuggì a Kirkpatrick che pubblicò il testamento così come l'aveva trovato e questo inventario getta una luce che accresce il rimpianto fino a renderlo dolorosissimo in quanto la biblioteca che Farinelli, gli strumenti che Farinelli aveva lasciati a questo fide commesso erano di una tala importanza da gettare un fascio di luce enorme su un periodo che disgraziatamente continua a manifestarsi lacunoso e oscuro ai ricercatori di oggi. Per quanto riguarda la collezione dei manoscritti, è talmente importante che disporne soltanto dei titoli o delle attribuzioni, ha cambiato già molto l'immagine che potevamo avere di un musicista come Domenico Scarlatti, per esempio, perché il grande numero di serenate, per esempio, giustifica appieno la sua permanenza, la sua attività non soltanto in Portogallo, ma parzialmente dobbiamo supporre anche alla Corte di Spagna. Certe attribuzioni per quello che riguarda i miei studi personali, ne è risultato estremamente consolidata, fortificata la mia ipotesi di un connubio con un altro musicista del sud siciliano, il barone da Storga, che andò ad agire in un certo senso non proprio come alter ego, ma almeno come compartecipe della gloria della corte portoghese. Poi, per quello che riguarda l'inventario degli strumenti, c'è stata la descrizione minuta del clavicembaro che Diego Fernandez costruì su indicazioni precise, su suggerimenti di Farinelli, che cambia in una maniera radicale la concezione piuttosto limitativa che una certa filologia d'accatto aveva attribuita alla musica di quel periodo. Io credo che se il povero Kirkpatrick avesse letto questo inventario sarebbe venuto un attacco di fegato, intanto per non averlo trovato lui. E poi per leggere questo strumento che in un certo senso, vi ricorderò che Kirkpatrick era nato al cembaro sia pure con dovute ossequiosità ai procedimenti di costruzione storici, ma il suo primo cembaro era il chalice, che era un cembaro a pedali, quindi che consentiva delle registrazioni mentre le mani sono impegnate a suonare. Alla fine della sua vita Kirkpatrick, che non era una persona facile, né pronta e disposta a cambiare idee, aveva cambiato idea se era adeguato all'idea di uno scarlatti suonato sul cembaro a un solo manuale e due registri di otto piedi, basta. Quindi la testimonianza principe che abbiamo della sua attività di esecutore scarlattiano è la registrazione delle 60 sonate che viceversa sono fatte col vecchio criterio, quindi con lo shifting di registrazione a pedali. e invece l'ultima sua testimonianza è il disco di 14 sonate fatto per la Deutsche Grammophon Gesellschaft con uno strumento appunto storico e codificato in quel binario piuttosto restritto. Lo strumento di Diego Fernandez ha la bellezza di 12 pedali e consente il cambio di registrazione durante la seguizione. Tutto questo, lo studio dei documenti ci fa vedere che effettivamente dovette nascere non tanto da un impulso di Domenico Scarlatti quanto da una smania della regina Maria Barbara che evidentemente restava insofferente di fronte al limite del clavicembao tradizionale. e le parole con le quali il Sacchi descrive nella biografia di Farinelli questa nascita e collaudo, questa sorpresa che Farinelli fa alla sua regina ci fanno vedere che era nato proprio da questa esigenza. Però a questo punto noi sappiamo che non soltanto lo scarlatti dispose di uno strumento sul quale si poteva suonare con 16 piedi, sul quale si potevano cambiare le registrazioni ma che la sua scelta di quella che appare come l'ultima parte della sua produzione di restare fedele a uno strumento con le limitazioni che ho detto prima era una scelta ragionata, era una scelta di qualcuno che sapeva di disporre anche di altri mezzi. Quindi questo documento ha aggiuntato, come vi dicevo, un fascio di luce importantissimo sulle ricerche e se ne attendono gli sviluppi adeguati in quanto oggi non ci limitiamo più a dire che esiste questo documento questo atteggiamento di brammatica o secolosità all'esistente e nient'altro che l'esistente è, grazie a Dio, accantonato. E quindi bisogna rileggere e ripensare tutto quello che si è fatto e detto in questi ultimi 40 anni alla luce di questo documento che Cappelletto ha pubblicato devo dire senza estrarne il succo generoso che c'era e quindi non si aspetta altro che i commenti che già sono venuti perché appena il libro di Cappelletto è stato pubblicato io dopo certi infortuni di manoscritti poi rivelatosi falsi mi sono affrettato a chiedere all'amico di Stato di Bologna la coppia di questo inventario perché era talmente sensazionale che se si fosse trattato di un altro falso c'era da spararsi e allora a questo punto avuta la copia mi sono affrettato a mandare una copia del volume di Cappelletto a Malcolm Boyd e un'altra a Gerard Doderer perché ne prendessero visione e non continuassero ad operare come spesso è moda nei nostri studi all'oscuro di qualche cosa, di un tesoro che altri presume di scoprire di divulgare ma chissà in che tempo scusate se sono stato troppo lungo ma mi premeva farmi partecipi del rimpianto che dobbiamo sentire per la perdita di questo patrimonio inestimabile e nel modo che gli studi che questo centro potrà promuovere riservano almeno in parte a ricostituire quello che dobbiamo pensare fosse l'eredità morale di Farimelli